L'energia è qualcosa di tanto semplice da utilizzare quanto complesso da controllare. Il nostro pianeta ne è pieno, ma spesso non siamo in grado di gestirla nel modo migliore. Sappiamo bene come far funzionare i nostri pc, come caricare le nostre auto, come accendere e spegnere tutti gli elettrodomestici che abbiamo in casa e addirittura come sfruttare al meglio l'enorme potenziale insito nelle fonti rinnovabili. Ma come possiamo essere certi di conoscere in dettaglio il flusso di queste energie? Cercare di risparmiare sulla bolletta può essere stressante e sono tante le soluzioni che si ripropongono di superare questo problema. Pinze amperometriche, smart plug, contatori di energia da installare all'interno del proprio quadro elettrico. Un po' scomodo e complicato a dire il vero. Che però non sono in grado di darci una risposta affidabile e completamente corretta, in quanto si limitano semplicemente a stimare i propri consumi. La soluzione? Alpha Alpha è il nuovo sistema di monitoraggio energetico targato Synapsi, nonché il primo al mondo a saper dialogare con i contatori elettrici di nuova generazione. Grazie al semplice inserimento in una qualsiasi presa di casa e senza l'intervento di un elettricista o di un tecnico professionista. Legge tutti i tuoi flussi di energia utilizzando una tecnologia nuova, innovativa e rivoluzionaria. Ti stai chiedendo cos'è il contatore di seconda generazione? Semplice! Se prima il tuo contatore era in grado di trasferire le informazioni solo al tuo gestore dell'energia, ora sarai in grado di riceverle e tenere così sotto controllo tutti i tuoi consumi. Per poterlo fare avrai bisogno di un traduttore, un dispositivo in grado di parlare con il contatore e monitorare i tuoi consumi, compresi quelli generati dall'impianto fotovoltaico. A differenza delle altre soluzioni esistenti, Alpha è in grado di leggere gli scambi di energia che avvengono nel tuo sistema, senza errori e direttamente dalla fonte, il tuo contatore. Non si limita a darti una semplice stima, ma ti fornisce un'immagine chiara e completa del tuo comportamento energetico. I LED sulla superficie indicano il corretto funzionamento del dispositivo e la barra luminosa centrale ti avverte con preavviso, anche tramite l'ausilio di una segnalazione acustica dell'imminente distacco dell'energia, dandoti il tempo di ridurre il consumo. Uno strumento dal design compatto, per adattarsi al meglio ad ogni tipo di ambiente, dal funzionamento intuitivo ed estremamente semplice da installare in autonomia, per monitorare la tua energia ed essere avvisato in caso di un imminente distacco. Perché non succeda di nuovo? Grazie al solo inserimento in una qualunque presa di corrente, Alfa è in grado di entrare direttamente in contatto con il contatore e leggerne in tempo reale tutti i dati. Nessuna installazione nel quadro elettrico, solo un semplice gesto. Grazie ad una tecnologia unica nel suo genere, il sistema è in grado di fornirti informazioni dettagliate sul tuo comportamento energetico, informandoti attraverso l'app dedicata con indicazioni chiare e complete. L'applicazione permette, infatti, non solo di avere tutti i dati di cui hai bisogno per monitorare e valutare i tuoi consumi, ma ti fornisce numerose funzionalità aggiuntive, ti dà la possibilità di visionare lo storico dell'energia consumata e di quella prodotta, capire quali sono le fasce orarie in cui tali flussi sono maggiori e confrontare i risultati raggiunti con quelli di tanti altri utenti, dandoti molti consigli utili per migliorare le tue abitudini energetiche e rendere ancora più virtuosi i tuoi comportamenti, sia che tu vuoi approcciarti per la prima volta al controllo dell'energia o che tu sia già esperto di questo campo. In questo sistema rivoluzionario, l'app dedicata di Alfa ricopre un ruolo centrale nel raggiungimento di un traguardo più grande, dare a tutti uno strumento per avere sempre a portata di mano il proprio percorso energetico e ricevere indicazioni costanti su come migliorare l'attuale situazione ambientale. Tutto ciò per costruire passo dopo passo una community guidata da un solo obiettivo, creare una gestione più consapevole dell'energia. iscriviti al nostro canale Grazie a tutti!